Partiamo da quello che è il posticipo di lunedì, si torna in campo dopo la piccola sosta. Pierno, come sta il Pescara? Il Pescara sta bene, stiamo lavorando, abbiamo avuto un po' di giorni per tirare il fiato, ci serviranno per questo mese intenso, sappiamo di tutti gli impegni ravvicinati che abbiamo. Stiamo bene, ci stiamo allenando, stiamo spingendo, non vediamo l'ora di ritornare in campo. Roberto Pierno e Pescara, Roberto Pierno e il Pescara, il bilancio di questa prima parte di stagione? Sono contento per come abbiamo cominciato il campionato, peccato per il pareggio a Perugia, perché si potevano portare a casa tre punti, però dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo fare anche meglio, dobbiamo fare quello che ci chiede il mister, dobbiamo continuare a giocare anche meglio possibilmente e portare a casa sempre tre punti. A Francavilla, due anni da quinto di centrocampo, a Pescara da quarto con licenza di andare, le differenze? Con il mister Zeman molte differenze non ce ne sono, conosciamo benissimo la sua storia, sappiamo del suo calcio offensivo, però richiede tanta fase difensiva da parte di tutta la squadra, non solo da parte dei difensori. Vuole che le attaccanti siano i primi a difendere e poi noi mettiamo in campo i suoi concetti che sono decennali. Facciamo un piccolo passo indietro, luglio arriva la chiamata al tuo procuratore che ti dice puoi andare a Pescara, cosa hai pensato? Come mi ha proposto Pescara? Non ci ho pensato su due volte, una frase fatta sì, però è la verità, perché quando ti chiama il Pescara è difficile veramente dire no, ti chiama il Pescara, vengo da Francavilla Fontana, era impossibile dire di no. L'obiettivo per questa stagione tu te la senti di sbilanciarti? L'obiettivo no, non mi sbilancio perché noi puntiamo a fare bene ogni partita, puntiamo a vincerle tutte ma passo dopo passo ovviamente, pensando prima alla partita di lunedì col Gubbio, che sappiamo che sarà un incontro difficilissimo, e poi pensando alla partita che ci sarà dopo tre giorni e dopo tre giorni ancora. Ti chiedo l'ultima cosa, un giocatore a cui si ispira particolarmente Roberto Pierno, puoi andare anche a livelli internazionali? No, mi è sempre piaciuto Hakimi per quanto corre, però se mi devo tenere più basso mi piace Lazzari della Lazio.